ciao a tutti oggi prepareremo la pasta brisè al pomodoro il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa ingredienti sono burro freddo farina di tipo doppio zero acqua fredda concentrato di pomodoro e sale diamo il via alla ricetta mettere nel boccale il burro la farina il concentrato di pomodoro l'acqua ed il sale ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti trascorso il tempo abbiamo ripreso la pasta brisè al pomodoro dal frigo rimuovere la pellicola trasparente e riporre su un piano di lavoro infarinato pasta brisè al pomodoro si conserva in frigo per tre giorni ideale per torte salate e crostate grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti